Ciao sono la dottoressa Giulia De Angelis, collaboratrice del dottor Max, io mi occupo di leggerti i vari foglietti illustrativi, dei profilattici, o preservativi, dei quali ne consiglio assolutamente l'uso, a scopo preventivo di gravidanze non desiderate e molte patologie fastidiose e pericolose. In questo video esaminiamo il profilattico preservativo. 6 preservativi XXL Lavmage King 6, 60 mm. Usare il preservativo è importante, ma ancora più importante è utilizzare il preservativo giusto. Ogni pene, infatti, deve indossare il preservativo adatto alle proprie misure e quindi più comodo. Se non si usa un profilattico della taglia giusta può succedere che questo dia fastidio e riduca e spenga l'eccitazione maschile. Per questo motivo, per chi può vantare considerevoli dimensioni del pene, il marchio Lavmage ha ideato e prodotto il Condon King 6. Questo profilattico ha una larghezza base di 60 mm per coloro che hanno un pene di taglia XXL, con una circonferenza tra i 14 e i 15 cm. Queste misure assicurano una comoda vestibilità e una perfetta aderenza sul pene in erezione. Il preservativo XXL Lavmage King 6 è realizzato in lattice, a superficie liscia, è lubrificato ed è dotato di serbatoio. Utilizzando Lavmage King 6 gli uomini possono fare l'amore in totale comodità, senza provare sensazioni di costrizione e fastidio che possono scoraggiare l'uso del preservativo. Il marchio Lavmage produce preservativi per rispondere alle più diverse esigenze. Stimolanti, resistenti, sottili, aromatizzati e kinksizze. Spero di esserti stata utile, metti un mi piace a questo video e iscriviti al canale, per usufruire di tutti i servizi informativi dedicati alla tua salute. Grazie e buon proseguimento dalla dottoressa, Giulia De Angelis. Ci vediamo al prossimo profilattico esaminato.